Musica 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 questa notte presento un performance che è un'azione naturale su quello che faccio in mio momento di creazione l'intimità così sagrada di un artista per dirlo in qualche modo è un momento di comunione intensa che ha un artista non è una exposizione gratuita è una exposizione che in lo poco che posso e in molto esforzo a e e e e e e e Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.